Allora, io sono partito dall'eccellenza, da una squadra provincia romana che si chiama Atletico Vescovio e ho fatto abbastanza bene con loro, così da militare in Serie D con Riedi e a Riedi anche facendo abbastanza bene, migliorando step dopo step, sono riuscito ad arrivare in Serie C a Lecce e subito dopo a Cesena in D, poi un'altra anno a Cesena in D e ora in Serie B a Cremona Per me è un'opportunità molto importante perché è un club così ambizioso e di prospettiva come la Cremonese e può essere una grande opportunità per me e poi per la categoria ovviamente L'impatto è stato buono, comunque le società di Serie B sono tutte società molto importanti e molto forti il cambiamento dalla Serie C si sente perché comunque c'è una categoria di differenza e in Serie B sono tutti molto più attenti e molto più forti, cioè da stare più concentrati e rimanere sempre sul pezzo partita dopo partita Sicuramente l'emozione sarà tantissima, soprattutto per la categoria e per la società e l'emozione diciamo che so gestirla bene perché comunque ho già fatto piazze molto importanti con tifoserie molto calde come Lecce e Cesena e spero soltanto di dimostrare tutto quello che so fare Ho avuto parecchi giocatori sulla fascia che comunque mi hanno anche aiutato a crescere Tanti attaccanti che hanno giocato molto diciamo sulle mie qualità e ora tutta la fascia disponibile è ancora meglio per me per cercare di fare meglio Ho giocato sia a 4 che a 5 comunque sia con 5 con un attaccante davanti con 4 con un attaccante davanti a 4 senza attaccante comunque quello... Centro sportivo bellissimo, non ero mai stato in un centro sportivo così grande sinceramente neanche Lecce e Cesena avevano un centro sportivo così con tutti questi campi bellissimi davvero rimasto senza parole